Si è svolta oggi a cavallo tra piazza delle erbe e piazza della frutta la trentesima edizione del biologico in piazza. La manifestazione è ormai un appuntamento canonico e molto atteso per incontrare produttori e artigiani biologici ed approfondire i temi legati all'ambiente, al lavoro, all'alimentazione e alla salute in chiave sostenibile.